È stato salvato in mattinata dopo 24 ore di difficili e complesse operazioni di soccorso lo speleologo Anconetano di 65 anni è rimasto infortunato domenica mentre con alcuni amici si trovava all'interno della sala villa della grotta a fiume vento a Frassassi di Genga. Si tratta di una delle tante e affascinanti cavità che si estendono sotto la riva del fiume Sentino chiamate appunto Grotte del Fiume e solitamente esplorate solo da parte di speleologi esperti e ben attrezzati. Il ferito scivolato in un cunicolo per 20 metri procurandosi una frattura esposta di tallone e calcagno era stato raggiunto nella serata di domenica da una squadra medicalizzata dell'undicesima zona della delegazione delle Marche del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino Speleologico. Il recupero è stato piuttosto complesso per il trasporto in barella e ci sono volute tante ore. Sul posto hanno lavorato 30 operatori certificati di squadre provenienti da Marche, Umbria, Abruzzo ed Emilia Romagna. Una volta tirato fuori il 65enne è stato trasportato in all'ambulanza agli ospedali riuniti di Ancona. Le sue condizioni sono stabili.